Arriva in Lombardia il catastro delle miniere dismesse e abbandonate. Il Consiglio regionale ha infatti approvato con un solo voto di astensione il progetto di legge per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, che prevede proprio l'istituzione di un registro per la cui gestione in aggiunta regionale potrà avvalersi dell'aiuto dell'ARPA o di un altro soggetto del sistema regionale. Il provvedimento regolamenta le attività di utilizzo delle miniere dismesse, facendo confluire le regole per la valorizzazione di tale patrimonio nella normativa generale che riguarda le miniere. Il testo si propone anche di censire i siti minerari dismessi e di attuare una programmazione delle varie attività da mettere in campo per la valorizzazione di queste aree attraverso un piano quinquennale di interventi. La relatrice del testo e Presidente della Commissione Ambiente, Margarita Peroni, del PDL, ha detto che è un provvedimento molto sentito, soprattutto nelle province di Bergamo, Brescia e Sondrio, dove le miniere sono state in passato il motore dell'economia. Secondo quanto spiegato dalla Peroni in aula, il testo di legge coniuga i principi della conservazione e valorizzazione delle miniere dismesse o abbandonate alla loro messa in sicurezza. Tra le finalità del progetto di legge c'è anche la creazione di una partnership con il sistema universitario per la promozione della ricerca scientifica all'interno dei sotterranei dismessi. Soddisfazione è stata espressa anche dal PD. Giuseppe Benigni ha detto che questo intervento serve per recuperare una cultura che appartiene alle nostre montagne, ma anche a garantire la messa in sicurezza di queste gallerie sotterranee.